44 provvedimenti tra ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni sono stati eseguiti dalle prime luci dell'alba nel corso di un'operazione antidroga della polizia di stato di Chieti denominata Rubino e coordinata dalla DDA dell'Aquila e che i poliziotti della squadra mobile Teatina hanno portato a termine nelle province di Chieti, Pescara, Teramo, L'Aquila, Varese, Milano e Roma. L'attività è frutto di un'indagine durata circa due anni che ha permesso di smantellare un sodalizio criminoso però più di origine balcanica operante anche in Abruzzo e in particolare Fratollo e Guardia Grele e dedito ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti. Alcune persone destinatarie di ordinanze di custodia cautelare si sono rese al momento irreperibili. Un'operazione abbastanza complessa, ha visto la durata di circa due anni e oggi possiamo dire che abbiamo disarticolato una importante organizzazione balcanica dedita al traffico di sostanze stupefacenti. È un risultato importante che sta a significare la bontà del lavoro svolto dagli uomini della squadra nobile di Chieti e oggi abbiamo ovviamente avuto la collaborazione anche del Servizio Centrale Operativo di Roma, di numerose questure che hanno inviato il loro personale per cercare appunto di dare il loro contributo. Considerate che non soltanto si è trattato di arresti a seguito di ordinanze di custodia cautelare ma anche di numerose perquisizioni che hanno visto interessato non solo l'intero Abruzzo ma anche altre regioni come la Lombardia, in Lazio e regioni di Mitrofe. Le persone arrestate sono 14 se non ricordo male, qualcuna si sapeva che non era rintracciabile perché ovviamente questi personaggi si muovono in lungo e largo e quindi riesce anche difficile trovarli però non disperiamo appunto di trovarli. I quantitativi sono stati effettuati durante tutti questi mesi d'indagine, tenete presente che a Milano c'è stata la parte più importante di sequestri, quasi 300 kg di hashish, sono stati sequestrati anche dei quantitativi di cocaina e anche delle armi che servivano al sodalizio per alimentare il loro business facendo anche delle rapine. Sono per lo più albanesi, ramificati ripeto in questo territorio e anche sulle province di Teramo e Pescara. C'è una specie di interscambio tra questi gruppi non solo per quanto riguarda la possibilità di smerciare questi quantitativi ma anche di rifornirsi per altri canali non solo in Italia ma anche all'estero.